Un volo di oltre 4 metri sbalzato a terra dalla bicicletta è rimasta bloccata d'improvviso su un filo spinato e poi l'impatto violentissimo con il terreno che non gli ha dato scampo. È morto così poco prima di mezzogiorno e mezzo in un sentiero della Val Maron a Denego Maurizio Pezzato Bassanese di 63 anni. Questa mattina assieme ad un amico aveva affrontato i sentieri dell'altopiano di Asiago in sella la sua mountain bike. Quando, giunto in una zona pianeggiante utilizzata anche per i pascoli, si è impigliato con la bicicletta in un filo spinato che delimita le diverse proprietà. L'impatto, non è ancora chiaro se dovuto a una distrazione o ad un malore, ha disazionato il 63enne dalla sella facendolo cadere pesantemente a terra. Inutile si è rivelato ogni tentativo di prestargli soccorso. Chiamata immediatamente dall'amico che era con lui, la centrale del 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso di Treviso che ha sbarcato l'equip sanitaria con il verricello a una ventina di metri di distanza. Troppo gravi però le lesioni riportate da Pezzato, deceduto quasi all'istante per una probabile frattura cervicale. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Enego e una squadra del soccorso alpino di Asiago intervenuta per la rimozione della salma. Grande appassionato di sport, Maurizio Pezzato, oltre alla bicicletta, amava la corsa. Tra le sue piccole e grandi imprese anche il Trail degli Eroi, competizione di corsa tra le cime e le valli del massiccio del Grappa.